Cosa succede al microbiota vaginale quando non è in equilibrio? Succede proprio che siccome i batteri buoni, chiamiamoli così, quelli utili, non sono più in equilibrio, le specie che sono presenti comunque in vagina, ma che di solito vengono, come dire, dominate e controllate dalle specie buone, cominciano a crescere e a proliferare e quindi cominciano a essere troppe e quindi a creare un quadro di vaginite. Ad esempio, in quelle situazioni in cui ci sono di solito il microorganismo più frequentemente coinvolto è la candida. Nelle infezioni recidivanti, cioè tutte quelle donne in cui la paziente comincia ad avere un'infezione, la si cura magari usando l'antilicotico o l'antibiotico. La signora guarisce temporaneamente ma si sviluppa lo stesso tipo di infezione e così più volte. In questo caso è ovvio che non è tanto il germe patogeno che torna o che si ripresenta, ma è il sistema difensivo che io ho nell'ambiente vaginale, quindi microbiota, che non è in grado di garantire la difesa e di arginare la proliferazione di questo germe patogeno. Nel momento in cui io ho quella che si chiama disbiosi, così viene detto in gergo scientifico, cioè il mio sistema non è più in equilibrio perché le specie buone, le specie latobacillari sono troppo poche o non sono quelle giuste, allora a quel punto germi che normalmente rimangono in vagina senza darmi un'infezione e una patologia diventano invece patogene e mi danno invece un quadro di infezione e di infiammazione.